Buonasera e benvenuti a Roma nella sala dell'estrazione del Superanalotto. Chi possede oggi, martedì 4 marzo, e ricevuto della giocata del Superanalotto può vincere 4.753.158 euro. Sono già iniziate le operazioni relative al concorso numero 27. Le 90 sfere numerate per la sestina vincente e il numero giolli sono state caricate. E con l'autorizzazione della commissione di controllo diamo un'ora via all'estrazione di questa sera. Le sfere sono scese nell'urna elettronica e inizia il loro mescolamento automatico. Andiamo insieme a scoprire il primo numero della sestina vincente. Il primo numero estratto è il numero 51 E ne arriva il secondo numero Il secondo numero estratto è il numero 65 Dal terzo numero si inizia a vincere Terzo numero estratto è il numero 76 E ne arriva il quarto numero che ci porta verso i premi importanti Quarto numero estratto è il numero 61 Quinto e penultimo numero Quinto numero estratto è il numero 40 Col sesto numero si conclude la sestina vincente Sesto numero estratto è il numero 46 Abbiamo i sei numeri che possono assegnare il jackpot Passiamo ora all'estrazione del numero giolli Per l'attribuzione dei premi di seconda categoria Il numero giolli di questa sera è il numero 71 Controlliamo insieme la sestina vincente In ordine di estrazione il numero giolli 51 65 76 61 40 46 Il numero giolli è il numero 71 Ora passiamo al numero super stare Il numero che ciascuno di voi può scegliere O che viene assegnato casualmente dal terminale di gioco Già al momento della convegda della giocata Può far vincere premi istantanei da 5 euro fino a 10.000 euro E la sua estrazione verrà grazie a questa seconda urna elettronica Già caricata con le sfere dall'1 al 90 E procediamo con l'ultima estrazione di questa sera Vi ricordo che il numero super stare Premi anche lo 0, l'1 e il 2 Moltiplica 25 volte le vincite del 5 100 volte quelle del 4 e del 3 Il numero super stare di questa sera è il numero 65 Ricontrolliamo insieme tutti i numeri del concorso numero 27 del super analotto Quella sestina vincente in ordine crescente 40 46 51 61 65 76 Il numero giolli è il numero 71 Il numero super stare è il numero 65 E l'estrazione di oggi, martedì 4 marzo, termina qui Fra pochi minuti scopriremo insieme se il jackpot di oltre 4 milioni di euro è stato assegnato a uno più vincitori E noi vi aspettiamo sempre qui, su Susa TV, la rete in diretta con la fortuna Ben ritrovati su Susa TV, la rete in diretta con la fortuna Pochi minuti fa abbiamo seguito l'estrazione dei numeri vincente del concorso numero 27 Che vi ricorda messo in paglia il jackpot di oltre 4 milioni di euro E anche questa sera il super analotto ha numerosissimi premi per voi Infatti abbiamo 57.725 vincite E ora è arrivato il momento di scoprire insieme se ci sono uno o più vincitori del jackpot E il computer ci comunica che non è stato realizzato il 6 nel 5 più 1 I 5 sono 3 e vincono 77.736 euro ciascuno I 4 sono 459 e vincono 525 euro ciascuno I 3 sono 19.305 e vincono 24 euro ciascuno Ora passiamo a super star Il numero stella che moltiplica le vincite del 5, del 4 e del 3 La premia anche con 0,1 e due punti Vediamo nel dettaglio tutte le quote Nessun 5 stella I 4 stella sono 7 e vincono 52.581 euro ciascuno I 3 stella sono 115 e vincono 2458 euro ciascuno 100 euro vanno i 1372 stella 10 euro 10.786 euro 1 stella E 5 euro 25.680 euro 0 stella E ora è arrivato il momento di scoprire insieme il jackpot del prossimo concorso 5.200.000 euro Io vi ringrazio per essere stati qui con noi E su Prana Lotto vi dà appuntamento a giovedì 6 marzo Sempre qui su Sysa TV La rete in diretta con la fortuna Grazie